Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Teleitalia. Enrico Letta su Matteo Salvini dice non date retta lui, così ci giochiamo l'estate. Ma di che cosa parla Enrico? Proviamo a vedere. Quindi il rispondersi a distanza continua da quando Enrico Letta, arrivato dalla Francia, si è dato e si è trovato un nuovo lavoro, l'antagonista, l'anti Salvini per eccellenza, o perlomeno lui crede di essere il più grande contrastatore di Matteo Salvini. Vabbè, nonostante gli appelli di Draghi al basta, smettetela, il segretario del PD continua con il suo antagonismo verso il capo della Lega. Lui continua con quell'idea che il PD deve essere un partito contro qualcuno. Non un partito che ha delle idee e attira elettori per le sue idee, ma attira elettori perché diventa contro qualcuno. Ma il PD è contro qualcuno già da tempo, dalla discesa in campo di Berlusconi, il PD si è trasformato, si chiamava in altri modi, si è trasformato in un partito contro qualcuno. Adesso prima Salvini, prima Berlusconi e adesso Salvini. Forse non hanno imparato che la storia gli ha dimostrato che i partiti contro qualcuno non funzionano, perché sono stati contro Berlusconi e lui ha governato per tanti anni. Forse qualcuno non gli ha mai detto guarda che non è propriamente. O forse l'elettore di sinistra ha bisogno di avere un partito contro qualcuno? Si identifica in un partito che agisce così, se no non me lo spiego, perché se non fosse così gli elettori del PD direbbero che a questo punto vado con Calenda, vado con chiunque altro, ma un partito contro qualcuno non ha senso. Probabilmente l'elettore di sinistra ha bisogno di un partito contro qualcuno. Si identifica in questo modo di far politica, se no non trovo nessun'altra spiegazione. A poche settimane così dal via libera, sulle riaperture concordate con tutto il governo, ecco che eletta ha da ridire. Dice agli italiani dico siamo, siate responsabili. Se seguite Salvini ci giochiamo l'estate. Ma in che senso dice questo alla stampa? Non date retta a Salvini. Ma Salvini che cosa sta dicendo? Sta dicendo quello che tutti pensano, ma che una parte politica invece contrasta a prescindere, a priori, solo perché è Salvini a dirlo. Se Salvini dice una cosa, una certa parte politica dice l'opposto. Anche quando è illogico dire l'opposto, loro dicono l'opposto. Ovviamente se è una sinistra che imposta la sua politica contro un politico dell'altra parte, ovviamente deve mantenere questo e qualsiasi cosa dice quell'altro politico bisogna contrastarla anche se dice la cosa più ovvia del mondo. Qual è la cosa ovvia che ha detto Salvini? Che dice tutto il centrodestra e che pensa anche il centrosinistra ma non lo dice. Se i dati sono buoni apriamo, se i dati non sono buoni chiudiamo. È una cosa di una banalità sconcertante. Se i dati sono buoni apriamo e Salvini dice, conferma, se i dati non sono buoni chiudiamo, lasciamo chiuso, richiudiamo. È così infantile e banale che uno dice ma perché Salvini dice delle cose così banali? Le deve dire perché c'è una parte politica che contrasta le banalità, solo perché hanno l'etichetta degli antagonisti. Oggi di Salvini, domani sarà di pinco pallino, ma l'importante è essere contro qualcuno. Per il segretario Dem, democratico, è gestibile a patto che non si facciano passare messaggi sbagliati sulla chiusura notturna. Ma quali messaggi sbagliati? Salvini dice se i dati lo permettono apriamo perché i ristoratori, i bar, le gelaterie hanno bisogno di lavorare, quelli che sono ancora aperti perché la metà ha chiuso. Guardatevi intorno nelle vostre città, la metà dei bar e dei ristoranti non c'è più. C'è scritto affittasi, affittasi. Quell'altra metà sta per chiudere. È questo che dice Salvini. Spostiamo dalle 22 alle 23. Non per farsi la passeggiatina col cane, ma è per permettere a queste persone di lavorare. Non per andare a fare la passeggiata. Lavorare. Insomma, il PD non vuole tenerci ancora chiusi in casa perché se sbagliamo adesso, se siamo irresponsabili, i fine settimana ci giochiamo l'estate. Guardate che se per sbaglio i contagi dovessero risalire, darebbero la colpa a Salvini anche se lui ha solo detto spostiamo dalle 22 alle 23. Se fra una settimana dicono che i sondaggi sono cresciuti, che l'RT è cresciuto, sarà colpa di Salvini. Solo perché ha detto vorrei spostare dalle 22 alle 23 la chiusura, che poi non è stato fatto, quindi quello che ha chiesto Salvini è rimasto così, ma se dovesse succedere qualcosa sarà colpa di Salvini solo perché ha pensato, ha pensato di spostare le chiusure dalle 22 alle 23. Voi direte ma no, ma un ragionamento così è infantile, è sciocco. Eh lo so, però questo si materializzerà, vedrete, io spero di no, che i contagi non risalgano, però vedrete di chi sarà la colpa se questo dovesse succedere. E poi arriva il monito del capo del PD. Attenti, perché se si segue Salvini si richiude tra tre settimane. Se invece seguiamo una linea di prudenza e riapertura in sicurezza, l'estate può andare alla grande, dice Letta. Bene, insomma, che ne pensate? Soprattutto quello che io mi sono sempre chiesto, come può questo partito avere il 20%, cioè un italiano su cinque, un italiano ogni cinque che voi conoscete, o che siete anche voi, vota per un partito che pensa delle cose che spesso non hanno né capo né coda. Nel senso, se seguite Salvini a spostare l'orario dalle 22 alle 23 ci rovinerà l'estate. Ma, insomma, sono delle forzature per far capire che al suo elettorato che il nemico è quello lì, quello con la barba, quello che tutti i giorni scrive qualcosa e dice qualcosa. Insomma, è un po', è un po', non so neanche esattamente come definire una cosa del genere. Non sarebbe meglio voi di sinistra votare un partito con delle idee, con delle proposte, il partito propone questo, 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 questo. No, che propone di criticare Salvini. Perché Letta si alza ogni mattina e sa che deve criticare Salvini. Salvini si alza ogni mattina e sa che sarà criticato da Letta. Va beh, fa un po' ridere, ma questa è la realtà, eh. Attenzione, è la realtà. Arrivederci a tutti.